Buongiorno a tutti e oggi come promesso sfondiamo le chiappettine e ci pigliamo ovip sfondiamo le chiappettine a scorpion perchè nello scorso periodo c'ha rotto le balle facciamo ninjutsu ovviamente media e facciamo no ok attivata facciamo casual oggi me la sento casual e scorpion chiamami che adesso ti sfondo le chiappettine porca miseria siamo a pochissimi giorni dall'uscita di il mio kunai verrà scatenato se ci fate 5 si stanno per finire perchè iniziano i calci in culo ai caio te capi scorpion che io non ti ho fatto niente prima torna a casa su niente io non ti ho fatto del male e tu invece sembra rompere le balle stronzo schifoso villano maremma schifo maremma ninjutsu e aio perchè ha preso ninjutsu poi vabbè meglio ne però non mi ricordo come si fa il colpo testicolare aio no bastardo certo rubiamo la mano d'opera rubiamo i cosi a quelli lì che stanno lavorando mannaggia tiè rubiamo le materie prime a quelli lì che stanno lavorando va bene dopo non c'è lavoro dopo si lamentano certo certo stronzo te ah ok ho capito schifoso scorpion bastardo si vede che è ascendente in sagittario perchè sei così stronzo oggi lasciami in pace cazzarola guarda che uso i madonna mia con quell'arpione lì devo andare a catastrofe e vedere se regolare quel arpione di merda lì spacca gazzo schifoso la vendetta è un piatto che va servito dopo il primo no no ma volevo fare la cosa vabbè lì salto quindi è inutile fermi tutti allora due elenco mosse vai di là mosse finali decapita vicino bloccato perfetto allora vicino va là ti è apri di sesamo ma fa un culo vendicato johnny cage vendicato prova la tua forza scorpion assorreta ragazzi il nostro godimento in questa incredibile vendetta è stato avvenuto minghia quanti soldi che ho e andremo a spendere in un prossimo episodio alla prossima